Secchino, una principiante. Posso hackerare tutti e tutti. Mi sono mancata? Grazie. Mi garantito. Come hai usato distruggere il mio drone? Non esiste. Ha usato distruggere il mio drone? Sta cecchina stronza. Sono sempre stata qui. Io non posso passare lì dietro, vero? Sì? No. È sempre meglio avere una via di fuga. Sì. Sì. Ma proprio andiamo lontano eh. Da qui siamo partiti e qui siamo teletrasportati. Selezionare il tuo aereo. Dai, fatelo voi il tank. Non ci provo bene a questo video. Giusto per avere un po' di varietà perché sennò mi stacco fare sempre la stessa persona. selezionare il tuo aereo. Vai. Esplicamente è un tank di maiale. In una scala da 1 a 10 come valuti il tuo dolore? Cioè è un tank veramente tipico perché non può star fermo. È l'unico che non ha lo scudo. E non ha lo scudo. L'ordine verrà ripristinato. L'ordine verrà ripristinato. Sì. Vediamo di rimetterti in sesto. Ma no, la parte è sbagliata. Ma no, la parte è sbagliata. Cazzo. Ma che bastardo mi ha buttato giù. Sistemi operativi ai basti. Un'incisione. Un'incisione triplata. Un'incisione triplata. Non è così senza saperne leggere o scrivere. Non è male. Lascia che ti rattoppi. Danni maggiorati. Tale madre e tale figlia. Ti sto accanto. Ti curo io. Erano un po' tantini. Ecco, io uno l'ho seccato. La mia parte l'avrei già anche bella e fatta. Io ho quasi ucciso... Lucio. ... 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